buongiorno stiamo andando a novegro al festival del fumetto siamo qui in macchina con papà ciao la mamma e la sorellina iscrivetevi al canale di ruben iscrivetevi al canale di mio figlio questi occhialini li usavo dieci anni fa un po strabico aspetta sei simmetrico sì sono bellissimo sì sì sono bellissimo noi siamo bellissimi io sono bellissimo lui è simmetrico io sono bellissimo però sei simmetrico c'è una foto con loro eh kid non ha la telecamera kid mettila giù guarda che comunque è simmetrica oh cazzo è bello come procede la giornata benissimo a parte le placche in gola benissimo a parte il cerchietto che mi buca la testa buon appetito eh a me come procede la fiera? dice tutto l'occhio guarda no niente tranquilla devo dire che abbiamo trovato un sacco di gente e la novegro è sempre bella deve esserci una parte c'è una cosa da aggiungere la novegro è piccola non c'è un cazzo da comprare non c'è niente quindi a voi amici ascoltatori vi dico 100 volte Luca ovviamente Torino è un ringraziamento particolare ai fotografi Antonio e Salvatore ecco l'altro uno stiamo facendo un po' di pubblicità la squadra la squadra Sì Vieni 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 ok basta Bene stiamo ritornando ciao Noemi giornata molto bella c'era poca gente però era bella mia mamma che si è fatta la scorta di rame Non è simmetrico Ah era dopo